Giacomo, una partita emozionante sull'altalena, siete partiti forti, poi vi siete fatti recuperare fino al pareggio, sembrava un po' una fotocopia rispetto a quella di due giorni fa. Sì, guarda, devo dire che è stata veramente una bella partita. Veniamo da due settimane dove abbiamo caricato tanto, abbiamo lauro dato tanto, per i prossimi impegni appunto della World Cup e poi i mondiali di Fukuoka. Davanti a questo pubblico poi comunque ti dà una grande spinta, quindi magari nel quarto tempo eravamo un po' più stanchi, però davanti a non so quante mila persone diciamo che ci ha dato quella forza in più per fare l'ultimo passo. È veramente un'emozione indescrivibile, soprattutto per me tornare qua in questa piscina dove sono cresciuto. Nient'altro da dire. Eh beh, c'è da dire innanzitutto che hai fatto tre gol, uno più bello dell'altro. Sì, vabbè, quello ti ho detto è un po' l'emozione, è un po' che ci pensavo questa partita, devo dire, perché tornare qua, appunto dove dicevo, dove ho iniziato a giocare le partite importanti di Serie A, è veramente bello, quindi ci pensavo, dicevo potrebbe essere una bellissima partita, con un pubblico appunto molto caldo come quello di Roma e vabbè, i gol, quello sono frutto sempre del lavoro della squadra. Senti, ti chiedo una sensazione personale, ci stiamo avvicinando al Mondiale, L'ultimo Mondiale c'è stata una medaglia d'argento, ma c'è stata una sconfitta con la Spagna con due rigori sbagliati da te. Ce l'hai un sassolino nella scarpa da toglierti, insomma ci pensi, è un pensiero? Quello certo, ci pensi molto spesso, ogni allenamento che fai, quando magari vai a tirare i rigori in allenamento, ci penso sempre, è inevitabile, però devo dire che lo sport magari è fatto così e sicuramente se lavori tanto, se lavori bene, ti darà sicuramente un'altra occasione. Magari arriverà a Fukuoka? Speriamo, speriamo a Fukuoka e speriamo anche gli anni dopo, speriamo ogni anno. Grazie.